Buon pomeriggio a tutti. Desidero aggiornarvi sulle attività che sto svolgendo per consentirvi di seguire con la massima trasparenza queste ore di intenso lavoro. Perché lo devo agli italiani, lo dobbiamo agli italiani, spieghiamolo agli italiani. A tutti, a tutti, ci siamo intesi. E non a nessuno! Mi permetto di dire che questo è l'ennesimo franimento del signor Conte. No, ma avete per niente aiutato, eh? Mai col PD, mai col partito di mafia capitale, mai col partito di Bibiano, mai col partito di Banca Etruria, mai col partito dei poteri forti, mai col partito di Renzi e della Bosca. Oggi io sono orgoglioso di non essere a quei banchi del governo. Non farei a cambio per nulla al mondo. Guardiamo il futuro. Basta guardare quelle facce. Tradiscono vergogna. C'è qualcuno che prova a dirlo. E' la conferma che Conte ha fatto il patto con il diavolo, con la Merkel, con il Macron. E' la conferma che va bene. E' il bene degli italiani. Per fare questo non servono i supereroi, che tanto piacciono al mio figlio. Basta essere persone normali, ma responsabili e determinate. Persone che amano davvero il proprio paese, sopra ogni cosa. Grazie.